ben tornati e buonasera a tutti cari amici intanto vi ringrazio per aver partecipato numerosi anche oggi alla live alla diretta è stato come sempre un momento molto interessante ricco di spunti ricco di considerazioni ricco di contenuti e anche dei vostri messaggi che sono stati numerosi e rendono il tutto ancora più importante e più bello da seguire proprio perché c'è questo coinvolgimento da parte vostra alle nostre dirette alle nostre considerazioni vi ricordo come sempre appuntamento introdotto da una settimana circa cioè la possibilità di lasciare il giorno della diretta un messaggio nel gruppo telegram live insieme rinaldo morelli rilasciate il vostro vocale molto semplice come su whatsapp praticamente e poi noi commenteremo in diretta appunto la vostra domanda la vostra considerazione grazie a tutti ancora allora nel corso della diretta di oggi abbiamo affrontato tutte quelle che sono le tematiche relative alla partita del milan ieri al pareggio con la roma ma ci sono ancora alcune considerazioni che io voglio fare che voglio approfondire un tema in particolare voglio approfondire cioè quello della verticalità della squadra per farlo voglio però prima partire da una considerazione una considerazione che arriva oggi a mente fredda arriva il giorno dopo arriva dopo aver parlato anche appunto con gli amici della gara di ieri ed è quella relativa al fatto che ieri secondo me il mister non ci ha capito molto mi spiego ha usato solamente due sostituzioni su cinque ora questo non lo so se per il fatto che non si fidasse a cambiare in corsa quello che era un assetto che sembrava poter alla fine quasi portare a casa la vittoria non lo so se in quel momento non riteneva le alternative in panchina adatte a subentrare adatte a fare qualcosa a dare il contributo alla squadra insomma credo che visto che anche lui ha battuto molto spesso su questa cosa delle cinque sostituzioni anche in conferenza stampa domenica ha parlato del fatto che i nuovi vanno utilizzati che i nuovi ai nuovi va data fiducia vanno inseriti ecco io credo che forse qualcosa si sarebbe potuto fare la decisione del mister è stata quella di andare verso una formazione più conservativa attraverso le sostituzioni e questo non ci ha dato la vittoria poi per tutto quello che è successo non solo per questo però sono l'impressione che un po un po di timore un po di braccino da parte del mister ci sia stato per appunto per non essere per non aver voluto cambiare alcuni assetti della squadra in un'ottica magari un pochino più propositiva forse se avessimo come dicevo anche ieri però in fase di commento gestito meglio alcuni contropiedi forse avremmo portato a casa la partita in ogni caso sappiamo che dei se e dei ma sono piene le fosse come dice il detto per cui direi che possiamo giustificare questa lettura un pochino timida e un pochino così diversa da quello che dovrebbe essere che è tutto sommato l'atteggiamento del milan cioè una squadra che cerca comunque sempre di attaccare sempre di essere propositiva a tal proposito proprio perché il milan cerca sempre di essere propositivo di attaccare ecco che il tema della verticalità eccessiva è un tema che è stato messo in risalto dal nostro allenatore in fase di conferenza stampa post gara ed è una cosa effettivamente vera ma questa considerazione giusta ha secondo me diverse matrici che adesso andremo ad analizzare prima di tutto dobbiamo dire che la ricerca della verticalità nel caso di ieri nasce per alcune cose che noi ancora non sappiamo fare e per alcune cose che invece sappiamo fare che sono caratteristiche intrinseche della nostra squadra cos'è che non sappiamo ancora fare non sappiamo gestire una partita nel senso che ci sono dei momenti della gara che vanno conservati per risparmiare energie per cercare anche un pochino di demoralizzare l'avversario in certe situazioni per cui la ricerca ossessiva di andare verso la porta avversaria di andare a cercare ibraimovic con quella che attenzione a lungo andare potrebbe essere anche un po' un vincolo nella nostra costruzione del gioco offensivo cioè quello di andare sempre a cercare il lancio per ibraimovic sempre la sponda situazione che viene cercata anche troppo e anche nel momento in cui non si sa bene che cosa fare il pallone proprio perché c'è questa esigenza di andare sempre in verticale e spesso lo si fa attraverso il lancio per ibra ibra però come ci siamo sempre detti non potrà esserci sempre nel corso di questa stagione per questo motivo sarà necessario ritornare un po' sui passi di quello che abbiamo visto la scorsa estate ma perché non giochiamo più in quel modo beh fondamentalmente perché abbiamo una questione legata alla condizione fisica condizione fisica che non è più brillante come allora perché abbiamo avuto tante partite perché la preparazione estiva è stata più corta e per tutti i motivi che conosciamo ergo andiamo a cercare una soluzione immediata andiamo a cercare di fare quello che facciamo prima ma non riuscendo più a farlo perché appunto la condizione fisica non è più brillante quindi diciamo l'aggressione sul pallone seconde palle tutte queste cose qua no l'aggressione anche nel corso della partita sulla prima costruzione avversaria sono tutte cose che adesso facciamo un pochino con più fatica ma questo è una caratteristica anche delle altre squadre perché ieri al sessantesimo abbiamo visto due squadre completamente spaccate in due con due tronconi che si muovevano su e giù come in una gara di basket per cui è una cosa abbastanza diffusa ma nel nostro caso dato che proprio questa condizione fisica è stata una delle armi vincenti del Milan post lockdown ecco che lì non possiamo più fare quel tipo di gioco come facevamo quella volta allora ieri dicevo Pioli ha detto che abbiamo forzato troppo la giocata soprattutto nel primo tempo l'abbiamo fatto perché noi abbiamo dei giocatori fondamentalmente verticali il Milan e Pioli non era un Milan in maniera che in maniera ossessiva cercava la verticalità e le verticalizzazioni non l'ha fatto mai Pioli nella sua carriera adesso lo facciamo e lo facciamo un po' troppo ma lo facciamo perché come dicevo abbiamo giocatori con quelle caratteristiche se noi pensiamo a Binasser se noi pensiamo a Salme Kerr se noi pensiamo alle house pensiamo anche a Teo sono tutti giocatori che hanno come dire il radar sempre indirizzato verso la porta avversaria vanno da quella parte ora questo da un certo punto di vista è un vantaggio perché ci siamo finalmente tolti dai piedi abbiamo superato quel lungo possesso palla noioso e stantio che aveva caratterizzato un po' il Milan di Gattuso e poi diciamo abbiamo dei giocatori moderni calcio moderno un calcio verticale un calcio anche di attesa e ripartenza quindi noi stiamo andando decisamente in questa direzione e questa è una cosa positiva quello che però diciamo è meno positivo il fatto che questi giocatori che hanno la tendenza essere molto verticali non hanno ancora la capacità di gestire la partita nei momenti decisivi cosa che abbiamo visto ieri ad esempio cosa che abbiamo visto un po' anche nel derby dove ci siamo schiacciati un po' troppo chiaro abbiamo giocato contro squadre importanti non è che abbiamo giocato contro la solbiatese con tutto il rispetto per la solbiatese ma in ogni caso una grande squadra lo diventa anche nel momento in cui riesce a gestire determinate partite in un determinato modo quindi quindi dobbiamo da un certo punto di vista capire che il mister sta cercando di riportare la squadra sui binari diciamo della scorsa estate quindi attraverso la gestione del pallone un pochino più oculata che avveniva però attraverso una condizione fisica e quindi una pressione dell'avversario recupero eccetera poi però dobbiamo anche giustificare il fatto appunto che abbiamo dei giocatori molto verticali e che abbiamo anche dei giocatori in fiducia e questa è un'altra componente importante un'altra chiave di lettura importante della situazione. Cosa intendo dire? Intendo dire che la squadra va bene, la squadra ottiene risultati, la squadra sta facendo quello che tutti noi tifosi del Milan vogliamo vederle fare quindi chiaramente loro si sentono in grande fiducia e quindi vanno a giocare spesso e volentieri in avanti vanno a cercare la giocata come nel caso di Teo in alcune sgroppate come nel caso di Leao che ieri tra l'altro ci ha fortunatamente per sua bravura procurato due gol e però lo vanno a cercare, vanno a cercare questa cosa. In tutto questo abbiamo inserito un altro giocatore che ha queste caratteristiche che è Sandro Tonali che è un altro giocatore che va proprio sulla verticalità, va sulla giocata, va sulla ricerca anche di qualcosa di complicato per riuscire a creare un calcio di livello superiore rispetto al calcio standard possiamo dirlo che abbiamo visto negli ultimi anni al Milan. Quindi in questo momento è un po' il gioco della coperta, della coperta corta proprio perché abbiamo una condizione che non è ottimale ma non può esserlo per tutti i motivi che sappiamo oltretutto questo anche sommato il fatto che adesso giochiamo ogni tre giorni e quindi dobbiamo per forza in qualche modo recuperare energie in modo rapido e per farlo purtroppo abbiamo poco tempo. Per cui credo che dobbiamo essere contenti del fatto che la squadra abbia in rosa degli elementi moderni, degli elementi che giocano in questo modo. Dall'altra parte dobbiamo anche però renderci conto che la concessione che dobbiamo dare a questo tipo di caratteristiche è chiaramente quella di un Milan che in alcuni momenti non sarà in grado di controllare la partita. Il mister l'ha visto chiaramente, il mister ci lavorerà, tutto questo però potrà avvenire nel momento in cui avremo magari superato il girone d'Europa League nel momento in cui avremo magari la possibilità di fartiare del fiato alcuni titolari e in questo senso i cinque cambi devono essere sfruttati meglio dal nostro allenatore che deve fare anche lui l'ultimo passaggio per diventare un eccellente allenatore e cioè quella di riuscire a superare alcune delle proprie incertezze e riuscire a leggere meglio certe situazioni per dare comunque consistenza in fase offensiva una squadra senza pregiudicarne però l'equilibrio. Mi rendo conto che seduti qua è molto facile, mi rendo conto che dirlo su un canale YouTube è molto facile e poi metterlo in pratica è difficile però noi siamo qui ad analizzare le cose come sempre, sempre con l'obiettivo non di criticare a prescindere ma anzi di fare un discorso costruttivo, un discorso di approfondimento attraverso i miei spunti e i vostri commenti che chiaramente attendo numerosi. Ci sentiamo alla prossima, passate una buona serata.